... Fabrizio Ferreira, domenica il cross del primo gol di Riccardo Caporali è stato il tuo e non di capitolo come abbiamo detto nella cronaca. Fabrizio, la terza vittoria consecutiva, come sta andando? Beh, stiamo andando bene, bisogna continuare così, è un momento per noi questo che sta andando tutto bene e bisogna lavorare settimana per settimana perché questo è un campionato molto difficile, soprattutto quest'anno dove ci sono squadre del calibro di Perugia, Arezzo e anche altre squadre. Fino adesso avete incontrato cinque squadre, solo una sconfitta, tu che ne pensi? Quali possono essere le squadre più forti? Le squadre più forti saranno Castelricone, Perugia e speriamo noi. Tu sei stato per tutto il settore giovanile con il Foligno, poi due anni a Deruta, adesso a Spoleto, come ti trovi qua? Mi trovo molto bene, è un ambiente molto buono questo, mi sono trovato subito bene con i compagni, soprattutto con Aris, che è un grandissimo compagno sia in campo che fuori. Senti, ma lo conoscevi prima di venire a Spoleto? Prima di vista lo conoscevo, dopo il ritiro e adesso abbiamo starato un buon rapporto e sono molto felice. Un pronostico per il campionato? Prima di tutto bisogna raggiungere la salvezza il primo possibile, che è il nostro primo obiettivo, poi se ci saranno altri obiettivi, benvengano. Un saluto in brasiliano? Un beijo per tutta la mia famiglia che sta nel Brasil. Un beijo per tutta la mia famiglia. Un saluto in brasiliano? Un saluto in brasiliano?